Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 260 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio. Spostandoci sulla FIPILI, un chilometro di coda per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli Est in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Si segnalano code in uscita alla Strassigna e in uscita a Livorno, entrambe provenendo da Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia, incidente tra l'innesto tra la 12 e Rosignano in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!